Con questo breve video voglio augurare a tutti voi un buon 2015, che possa essere un 2015 di serenità, di passione, di coraggio, di dignità, un 2015 migliore di un anno complicato ma anche pieno di soddisfazione, pieno di cose da fare ancora ma anche di risultati raggiunti. Il mio impegno per il 2015 è quello di lavorare, lavorare sempre nella consapevolezza che lavorando con onestà e coinvolgendo tante persone di buona volontà alla fine i risultati si ottengono. Il mio impegno è quello di stare sempre di più tra di voi, in mezzo alla gente, in mezzo ai problemi, in mezzo alle emozioni, alla carica umana, raccontarvi le cose che stiamo facendo e raccogliere i vostri suggerimenti. Napoli sta cambiando, sta cambiando nella sua voglia di essere nuovamente protagonista nel mondo, una città della quale si è ritornati a essere orgogliosi di sentirsi finalmente napoletani, di poter dire io vivo a Napoli e non abbassare gli occhi per delle immagini che distruggevano la nostra città. Napoli è viva, è piena di energie, è piena di iniziative, è piena di cultura, di giovani, di turisti. Napoli che sta riconquistando quel posto che merita tra le città più importanti del mondo. Nel 2015 l'attenzione alla cura, al dettaglio, al particolare, alla qualità della vita, ma soprattutto un 2015 vicino a chi maggiormente ha bisogno della vicinanza delle istituzioni e del sindaco, i più bisognosi, i più sofferenti, le persone che meritano sforzi grandiosi. Buon 2015 a tutte voi e a tutti voi.